Un orsetto è il protagonista del calendario ideato da due infermiere di pediatria dell'ospedale di Piacenza che ha riscosso grande successo. 500 coppie sono esaurite in pochi giorni e ne sono state ristampate al 300. I fondi serviranno per acquistare materiale utile al reparto ma anche per la formazione dei professionisti che lavorano quotidianamente per curare e rendere meno difficoltosa la decenza in ospedale. Le foto sono state scattate da Federica Provini. È nato molto per gioco nel senso che io insieme a Patrizia ci siamo guardate e abbiamo detto ma perché non facciamo un calendario? Doveva essere diciamo una cosa fra di noi, una cosa ironica che potesse fra virgolette divertire i degenti. Ha riscosso grande successo ma proprio perché fra di noi c'è stato un lavoro di equip, di gruppo. Abbiamo pensato di prendere un orsetto come rappresentante di tutti i bambini e quindi in persona appunto un bambino qualsiasi che può venire in pronto soccorso e poi seguire l'iter diagnostico terapeutico anche il reparto. Quindi abbiamo inventato una storia sotto forma di filastrocca su questo orso che ha un mal di pancia e poi viene curato in pronto soccorso pediatrico in pediatria. È stata una sorpresa anche per me, devo ringraziare le nostre infermiere che hanno avuto questa iniziativa, devo dire, molto simpatica ma anche evidentemente molto apprezzata dalla popolazione per questo ovviamente per noi significa riuscire a raccogliere una certa cifra che sarà sicuramente utilizzata per arricchire l'offerta non soltanto assistenziale da un punto di vista diciamo specificamente tecnico ma anche per migliorare tutto quello che può essere l'accoglienza dei pazienti ricoverati presso il nostro reparto. Ogni anno nel reparto di pediatria vengono ricoverati circa mille bambini.